Lo cercano ininterrottamente da più di quattro giorni. Stiamo parlando del menfitano Giuseppe Gulli, che sembra essere svanito nel nulla dopo essere uscito di casa mercoledì scorso. La sua auto, una Opel Astra, è stata ritrovata in contrada Vuturo in territorio di Montevago, parcheggiata sul ciglio della strada e regolarmente chiusa a chiave, ma dell'uomo nessuna traccia. Non è chiaro cosa possa essere avvenuto. Carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile lo stanno cercando nell'area dove è stata rinvenuta la macchina, ma al momento senza esito. Le ricerche sono coordinate anche dalla prefettura del Gento, che ha predisposto un vero e proprio piano di intervento. L'uomo, pensionato e 86enne, pare che fosse uscito di casa soltanto per farsi un giro, senza avere una meta precisa. Da tal età, i soccorritori stanno cercando di fare il più in fretta possibile, ma è chiaro che più passa il tempo e più la preoccupazione cresce. Della vicenda sono stati allertati inoltre i due sindaci interessati, quello di Menfi Enzo Lothà e quello di Montevago Margherita La Roccaruvolo. Anche oggi le ricerche sono proseguite, con un nutrito numero di uomini e mezzi, ma nulla si sa circa la sorte dell'anziano. La scomparsa dell'uomo è, per le forze dell'ordine, un vero rompicapo, posto che non vi sono particolari indizi, se non il ritrovamento dell'auto, che certifica lo spostamento dell'anziano da Menfi verso Montevago.